buongiorno amici di youtube 2 settembre 2023 saluti da sandro oggi vi ho portato in un posto nuovo dove non sono mai stato allarghiamo la camera vi faccio vedere davanti a me c'è un notissimo lago che a prima vista potrebbe sembrare il lago di comabio scusate ma non siamo molto distanti siamo nella parte parallela al lago di comabio e qui siamo al bellissimo lago di monate che lo trovo molto meglio rispetto a quello di comabio ma comunque niente da dire tutte e due comunque sono due laghi stupendi all'interno qui abbiamo un bellissimo parco con tavolini panchine dove poter fare dei bellissimi picnic aldo se segui questo video tieni presente questo posto che devi venire per forza da visitare diglielo anche all'amico luigi che saluto e rispecchia in me una grandissima serenità e qui non abbiamo una pista ciclabile di 12 13 chilometri come sul lago di comabio però abbiamo dei brevi percorsi da poter effettuare ugualmente a piedi in questo bellissimo verde vedete anche le montagne in fondo le montagne in fondo sono la zona del comprensorio di campo dei fiori della zona di varese e in fondo a sinistra vediamo anche la montagna sopra la veno oggi si gode di una bellissima giornata e ho colto questa occasione per venire a fare due passi in questo bellissimo lago dove non ero mai stato ma del quale ho sentito parlare molto bene vediamo su sul lago anche delle barchette delle canoe che colgono l'occasione di questa giornata da poter fare una bella escursione e poter prendere ancora un po di sole aldo guarda questo bellissimo video devi venire a fare un bel giro che è un posto stupendo puoi fare anche un bellissimo picnic ricordati diglielo a luigi organizzate bene un bellissimo picnic al lago di monate vi saluto da questo youtube di sandro